Come ti chiami? Buongiorno, piacere, mi chiamo Mattolais e mi candido con Lista Vobbis. Mi chiamo Diego. Io sono Paolo Capasso. Francesca. Che classe sei? Sono della quinta A. Terza C. Sono del quinto A. Quarto D. Sai perché la tua lista si chiama così? La nostra lista si chiama Lista Vobbis, perché uno dei punti principali di questa lista è il rapporto che noi dobbiamo fare. con gli studenti e perciò noi vogliamo soddisfare le esigenze degli studenti e infatti quest'anno abbiamo l'intenzione di comunicare più con loro e introdurre nel programma le loro richieste. Il significato è un po' astratto e sarebbe fa quello che vuoi, quello che vuoi veramente, non un significato banale che potremmo pensare abbia. Certo, siamo un gruppo di amici che ha presentato l'Augusto dal 2019, quindi da quando eravamo in primo e siamo un gruppo tanto unito che ha dato molto all'Augusto, secondo me, in questi cinque anni. Sì, allora speravo questa domanda mi venisse fatta. Allora, l'Aurora rappresenta comunque quella luce splendente dopo un buio, cioè una notte profonda e quindi rappresenta proprio quella luce, quella rinascita che porta il giorno dopo una notte, però nel logo per esempio non c'è l'Aurora, perché l'Aurora è un concetto astratto e non è il centro della nostra lista, nel logo ci sta Augusto, cioè tutti gli Augustei, tutto il loro benessere e le loro necessità. Come vorresti migliorare la tua scuola? Noi abbiamo l'intenzione di... uno dei punti su cui vogliamo puntare è proprio quello della ricreazione e cercheremo anche di collaborare con le altre liste per arrivare a una ricreazione di 20 minuti o due ricreazioni di 15. Soprattutto noi vogliamo puntare su quei programmi che non siamo riusciti a concludere l'anno scorso o comunque a implementarli ancora di più. Proseguiremo con... per esempio per quanto riguarda le felpe, l'anno scorso sono arrivate molto in ritardo e quest'anno abbiamo l'intenzione di muoverci in modo che arrivino prima, anche perché l'anno scorso i quinti sono arrivati proprio... non sono proprio arrivate e non sono riusciti poi a indossarle durante l'anno. Adottando i punti del nostro programma che abbiamo già scritto sulla nostra pagina Instagram. Allora, la nostra scuola ha evidenti problematiche, soprattutto per quanto riguarda la salute degli studenti, la salute mentale degli studenti, perché essendo un liceo classico sono molto pressati ovviamente, quindi diciamo che si può migliorare soprattutto sotto questo aspetto, poi cercando di non fare propagande irrealistiche, cercando di mirare degli obiettivi semplici e concreti. Allora, un po' lo dico nei punti che abbiamo in programma, che faremo uscire. Vogliamo creare più attività all'interno della scuola, più dialogo tra studente, professore o anche proprio più dialogo in generale. Vogliamo una scuola più sicura, che curi il benessere degli studenti, le loro necessità e i loro interessi. Cosa ha la tua lista in più rispetto alle altre? La nostra lista rispetto alle altre ha innanzitutto l'esperienza, infatti Nicola è stato rappresentante dell'istituto l'anno scorso, innanzitutto siamo i più simpatici e poi siamo quelli che ci credono di più. Di sicuro rappresenta la novità perché è una delle liste nuove dell'istituto e pensiamo che le altre liste abbiano già fatto quello che potevano fare e quindi adesso serva della novità. La mia lista in più rispetto alle altre è il fatto che noi proponiamo pochi obiettivi ma chiari, non proponiamo cose irrealizzabili. Ad esempio negli anni scorsi abbiamo assistito a delle proposte che avrebbero richieduto decine di anni per raggiungere a compimento. Solitamente noi preferiamo non guardare il lavoro delle altre liste e ci concentriamo su di noi perché se iniziamo a pensare agli altri loro lavori perdiamo il nostro filo, quindi solitamente a questo non pensiamo troppo. Però la prima cosa che mi viene in mente adesso è che nella nostra lista sono presenti ragazze quando nelle altre liste di istituto non ci sono. Poi noi come lista, come studenti, l'anno scorso abbiamo fatto varie cose che ci hanno caratterizzato come la riqualificazione degli spazi, il collettivo. Nel collettivo noi ci siamo sempre, almeno due terzi di noi è fisso al collettivo e ci rimane tutto l'anno, non soltanto in certi periodi in cui fa comodo starci e siamo una presenza su cui contare. Cosa ti ha spinto a candidarti come rappresentante di istituto? In principio mi aveva spinto l'anno scorso a candidarmi come rappresentante di istituto quello di provare a fare una nuova esperienza e quello di potermi relazionare con gli altri e cercare di apportare alla scuola un cambiamento positivo. Quest'anno, anche grazie all'esperienza della campagna elettorale dell'anno scorso, mi sono candidato perché credo e spero di vincere e di attuare dei cambiamenti positivi per la scuola. Mi piace provare a risolvere i problemi della comunità scolastica e mi piace la mia scuola. E' un po' il fatto che in questi cinque anni ho sempre voluto dare di più a questa scuola e penso che il modo giusto per farlo sia appunto candidarsi per la rappresentanza dell'istituto. Per prima cosa, per essere un punto di riferimento per tutti gli studenti, soprattutto quelli più piccoli, per rappresentare una comunità, tanti studenti che magari hanno bisogno di un punto di riferimento, una persona a cui rivolgersi per determinati problemi che possono esserci in classe o nella scuola in generale, ma anche per proporre, perché fa sempre piacere quando una persona viene da te e ti chiede, ti propone qualcosa, una sua idea, una cosa, è sempre bellissimo. E volevo rivedermi anche io nella figura di riferimento, dato che ce le ho avute io quando ero più piccola al biennio. Parlaci di te fuori dal contesto scolastico. Ho diversi interessi, mi piace, mi diretto a suonare il pianoforte, sono un ragazzo molto sportivo, e ogni weekend vado al lago di Castelcandolfo e pratico canottaggio, e mi piace anche stare molto con i miei amici. Da un mese ho iniziato a fare kickboxing, dopo un po' di tempo che non facevo sport e mi piace molto. Ma io sono un ragazzo tranquillissimo, un ragazzo normale, con le sue amicizie, a cui piace divertirsi, penso come un po' tutti gli augustei, insomma. Sono un'appassionata in musica, suono da ormai cinque anni, sei forse, il sassofono, e ho suonato, suono in una banda che suona da tutte le parti, che arriva a suonare dai quartieri di San Basilio fino ai musei di Napoli, di Torino, oppure circo massimo, ma anche per strada, normalmente. Quindi, diciamo, la musica è il mio principale momento di me. Dicci tre cose belle e tre cose che vorresti migliorare della tua scuola. Tra le cose belle vorrei indicare, come la prima, gli augustei. Mi sono trovato veramente bene nel corso di questi cinque anni e ho fatto delle amicizie che mi resteranno per il corso della mia vita. Un'altra cosa bella dell'Augusto sono i professori. I professori dell'Augusto sono tra i più competenti. mi hanno fatto appassionare a delle materie di cui ignoravo l'esistenza e penso che l'Augusto mi abbia formato e mi abbia formato come persona per il resto della mia vita. Cose belle, di sicuro, la comunità scolastica e i collaboratori scolastici. Cose che vorrei migliorare, per esempio, abbiamo espresso dei punti nella nostra lista, come per esempio vorremmo dare più importanza all'attività fisica, creare un collettivo tra un comitato dei rappresentanti di classe che è diverso dal collettivo e cambiare l'alimentazione durante la ricreazione, ovvero fornendo più cibo al di là del solito cibo che troviamo nelle macchinette. Tre cose belle sono sicuramente la formazione, la comunità studentesca e anche la preparazione dei professori, secondo me, è abbastanza elevata. Tre cose che si possono migliorare sicuramente il dialogo tra i professori e gli studenti che molto spesso è assente oppure è in uno stato critico veramente. Appunto la salute mentale degli studenti che sono veramente stressati, ci arrivano a lamentare tutti i giorni a noi, ma anche dai nostri compagni di classe, di ragazzi che piangono il pomeriggio perché non riescono a studiare e quindi prendono voti insufficienti solo per i loro impegni personali. Allora, portando dalle cose belle, la prima che mi viene in mente è la comunità studentesca che c'è tanto movimento e vedo tanta unità a volte e l'attività politica che si comporta, che siamo abbastanza attivi, ci impegniamo sempre, abbiamo un collettivo fisso ogni sabato che pochissime scuole ce lo hanno e quello che forse dovremmo provare a migliorare sono un po' gli orari che sono da una parte scomodi e secondo me sono migliorabili, pure anche la mancata attenzione verso gli studenti magari con più difficoltà e la salute mentale, che poi sono anche molto problemi che non stanno all'interno dell'Augusto, sono problemi generali di sistema però che si può migliorare partendo anche dalla base. Cosa pensi sia più difficile nel fare il rappresentante d'istituto? Penso che la cosa più difficile nel fare il rappresentante d'istituto sia il relazionarsi con la preside, sicuramente, il relazionarsi con i momenti di crisi che possono esistere a scuola e nel cercare di trovare delle soluzioni che possano far conciliare le idee degli studenti. Penso sia relazionare i punti della lista e relazionare i rappresentanti d'istituto e le richieste dei punti della lista con la volontà della preside e delle istituzioni scolastiche. Beh, il rappresentante d'istituto è una carica che ti toglie del tempo personale, sicuramente, perché i consigli d'istituto si riuniscono nel pomeriggio e in mezzo alla settimana, quindi è un impegno notevole. Allora, indubbiamente è un ruolo molto complicato. Il primo motivo può essere che a scuola siamo tanti. Siamo circa 800 studenti, 800 studenti con richieste diverse, con necessità diverse, quindi intermediare con tutti è molto complicato. Quindi c'è sempre il rischio di non fare le cose correttamente e indubbiamente quando sei rappresentante si sbaglia. Almeno i primi tempi si sbaglia, però quello che ti rende un bravo rappresentante d'istituto è riuscire a migliorarti e cercare di creare unità anche tra le richieste degli studenti. Rilascia un saluto, uno slogan che vorresti dedicare alla scuola. Allora, votate noi per una scuola dinamica per voi. Votate la nostra lista e fa ciò che vuoi. Da Mastro per Mastro e per l'Augusto. Insieme per la scuola vota l'Ista Aurora.